Una firma dietro l'altra, l'intero consiglio direttivo formato da 13 membri del presidente dell'associazione Jesolana Albergatori, rassegna le dimissioni. La durissima presa di posizione arriva dopo la decisione dell'amministrazione comunale di aumentare la tassa di soggiorno. Non so, forse abbiamo sbagliato noi, ma se abbiamo sbagliato noi come associazione, come rappresentanti dell'associazione, ben vengano altri 13 più un presidente che venga a fare ciò che dovrebbe essere stato fatto. Perché io non vedo altre soluzioni in questo contesto. Una completa disattenzione alle stanze e alle proposte delle categorie, un grave danno all'immagine della città, la reale prospettiva di mettere a rischio posti di lavoro ed ancora la grave prospettiva di ridurre il potere d'acquisto delle famiglie in vacanza. Questi alcuni dei motivi che hanno portato le dimissioni. La risposta del sindaco. Io non capisco la motivazione anche perché sapevano che l'amministrazione comunale aveva in mente di fare questo aumento perché c'era necessità di un gettito maggiore dell'imposto del soggiorno di circa 1.8 milioni per far fronte a quelli che sono i nostri programmi elettorali e quindi per dare più servizi alla città. 1.800 l'introito secondo il sindaco, 3 milioni invece il calcolo dell'AIA. L'associazione si riserva azioni pesanti e rimovibili. Noi abbiamo fatto, il nostro ufficio ha fatto i conteggi su quei numeri, su quei dati, su quelle presenze. Quindi se vogliono confrontarsi su questi dati, se volevano confrontarsi su questi numeri, potevano farlo. Una battaglia che a questo punto è solo all'inizio.